Seneca Lucio Anneo Seneca, 4 a.C. 65 d.C. Noto come Seneca o Seneca il Giovane, filosofo, drammaturgo e politico romano, senatore, questore, durante l'età Giulio Claudia, in Epistole dice Allontaniamoci per poco da pregiudizi volgari e formiamoci un'idea conveniente di questa virtù sublime e magnifica che vuole essere onorata non con l'incenso né con le ghirlande, ma col sudore e col sangue. Assumiamo per un momento l'anima di un eroe. Guardiamo Catone che muove contro il santo suo petto le purissime mani e allarga la ferita troppo stretta. Gli augureremmo una sorte migliore? Il filosofo Demetrio chiama mare morto una vita senza alcun incidente di fortuna. La mancanza di ogni eccitamento che ci rianimi, che metta alla prova il nostro coraggio, non è tranquillità, è bonaccia di scirocco. Attalo Stoico soleva dire io preferisco che la fortuna mi riceva nei suoi accampamenti anziché nei suoi palazzi. Sono tormentato, ma con coraggio, è un bene. Sono ucciso, ma con coraggio, è un bene. Commento Molti grandi hanno compreso che il dolore è il substrato della condizione umana, il dolore come vibrazione, come percezione, come sostanza dell'umano. sull'umano. Soll'umano. Soll'umano sull'umano. Soll'umano. Soll'umano. Grazie a tutti